Commissioni Sanità e Bilancio riunite oggi per il parere sui piani di rientro delle quattro asla abruzzesi o quantomeno per parlarne. Dopo la riunione d'urgenza convocata da Marsilio con i direttori delle asla, l'emiciclo questa mattina è stata la volta delle commissioni congiunte, oggetto il disavanzo delle asla. L'assessore alla sanità Nicoletta Veria è stata molto rassicurante in merito, dando cifre e assicurando che non ci saranno tagli all'assistenza. La questione comunque è lunga, il parere delle commissioni è vincolante ma non arriverà oggi. Noi stiamo parlando di disavanzi della nostra regione che sono molto inferiori a disavanzi a livello nazionale. Disavanzi che ogni anno noi abbiamo coperto con fondi del sistema sanitario e con fondi della sanità. Per cui all'ultimo anno, nel 2023, abbiamo chiuso con un disavanzo di 18 milioni per cui abbiamo chiesto una manovra di bilancio. Si prospetta la stessa ipotesi nel 2024, secondo una nostra ipotesi dovremmo chiudere a meno 21, quindi stiamo verificando dove è possibile attingere questi fondi per portare un equilibrio di bilancio. Quello che tengo a sottolineare è che i piani che sono stati presentati sono piani che salvaguardano i livelli di assistenza, piani che non tagliano il personale. Abbiamo il dovere nei confronti dei cittadini di portare avanti il programma che ci siamo prefissati. I manager hanno fatto un buon lavoro, le ASL altrettanto con le direzioni strategiche, quindi a scendere hanno incominciato a presentare i piani. Oggi siamo qui per valutare questo operato e riteniamo che il commissariamento, a differenza di ciò che dice la sinistra, è più che scongiurato. Una visione ci può essere differente ma con comuni obiettivi, non c'è nessuna situazione di frizione interna, anzi ben vengano posizioni sempre all'interno di una maggioranza. La Lega fa parte della coalizione a pieno titolo, però è un partito differente sia da Fratelli d'Italia che da Forza Italia. Ognuno ha la libertà di esprimere le proprie opinioni all'interno della coalizione, ma noi tutti insieme andiamo avanti per raggiungere gli obiettivi comuni. L'opposizione intanto è stata durissima. Il capo dell'opposizione, il professor Luciano D'Amico, è stato netto parlando di commissariamento in pratica, che sarebbe il modello sanitario abruzzese per lui. La perdita prevista, detto, è di 199 milioni per il 2024, un fatto che porterà ancora tagli e sacrifici, secondo l'opposizione, che gli abruzzesi dovranno pagare. Stiamo discutendo di piani di rientro che i direttori delle Asla hanno predisposto, immaginando delle singole azioni, in assenza, purtroppo per loro, in assenza di un quadro, di una strategia regionale di riferimento. Qui è necessario ripensare l'assetto delle Asla, se possiamo mantenere ancora quattro, ridurle a due o addirittura ad una sola. È necessario rivedere il piano ospedaliero, dobbiamo scegliere l'ospedale di secondo livello, dobbiamo ripensare la medicina territoriale. Di tutto questo non c'è traccia nelle decisioni che la Giunta regionale intende assumere, se non quella di creare una sorta di autocommissariamento prevedendo delle strutture di missioni.